Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa cantante Elettra Lamborghini ha finalmente realizzato uno dei suoi sogni. Ha lanciato la sua linea di abbigliamento per bambini chiamata Mameci. L'inaugurazione di questa nuova avventura imprenditoriale è avvenuta oggi con un evento coloratissimo su una terrazza di fronte al Duomo di Milano. Su Instagram Elettra ha condiviso alcune foto che la ritraggono insieme a bambini che indossano capi della sua linea. Nella didascalia la cantante ha scritto un sogno che si avvera. Dal mio amore e ammirazione per i bambini nasce il mio nuovo brand, un progetto di condivisione pensato per vestire tutta la famiglia dai più grandi ai più piccoli. Sono estremamente orgogliosa di tutto il team e non vedo l'ora di mostrarvi l'intera collezione. Recentemente, durante la sua partecipazione a Verissimo, Elettra Lamborghini ha parlato del suo amore per i bambini e dell'adozione. Ha dichiarato Mi batto molto per l'adozione. Ho trovato molte porte chiuse e per questo cerco di parlarne sui miei social. Non tutti sembrano desiderare affrontare questo argomento, ma a me piacerebbe portare avanti questa battaglia. Si potrebbe fare molto di più. Io posso avere figli, fino a prova contraria. Non ho nessun problema. Il fatto di adottare deriva dalla mia paura di far nascere un bambino in questo mondo così brutto, mentre adottandone uno?